Con lo sblocco del progetto per il raddoppio della Milano-Mortara, reso possibile dall'intervento del Ministero che impone a RFI di intervenire, torna ad attualità il tema della rimozione dei passaggi a livello. Ora non si potrà più tergiversare, una soluzione andrà trovata. Mortara dovrà decidere cosa fare del passaggio a livello di Viale Capettini, senza il quale forse secondo binario fino a Parona sarebbe già diventato realtà con i fondi del PNRR. I problemi maggiori però riguardano gli attraversamenti di Abbiate Grasso e Vigevano. Il vice sindaco della città del Leone, Roberto Albetti, ha chiesto che si attivi immediatamente un tavolo con le ferrovie per discutere del progetto. Il comune di Vigevano, ancora prima dei recenti sviluppi, aveva deciso di avviare uno studio di fattibilità nell'ambito del nuovo piano di governo del territorio, un processo che verrà avviato nelle prossime settimane con il voto in Consiglio Comunale. I cittadini, in cambio del raddoppio, dovranno rinunciare a qualcosa in termini di viabilità urbana. Potrebbero essere necessari sacrifici importanti che interesserebbero strade parecchio frequentate. L'occasione di completare il raddoppio e risolvere uno dei problemi cronici della Lomellina però a questo punto si presenta ghiotta. Martedì si terrà a Vigevano la prima riunione della ricostituita consulta intercomunale che raggruppa tutte le città della tratta. Le stesse che hanno votato nei consigli comunali la rinuncia al vecchio progetto di interrare la linea. Un passo decisivo per uscire dall'impassa, ha commentato il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, perché l'azione della regione da sola non sarebbe bastata.